Ogni anno circa mille studenti si iscrivono al nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. Complessivamente infatti da noi ci sono 5.000 studenti che studiano nei nostri diversi corsi. Come mai così tanti studenti? Perché direi principalmente ci sono due vantaggi per chi viene qui, due elementi interessanti. Il primo è che gran parte dei nostri studenti finiscono il percorso formativo nel tempo previsto. E questo è un bel vantaggio perché uno entra prima nel mercato del lavoro. La seconda ragione è che i nostri studenti, grazie ai corsi, al rapporto che noi abbiamo col mercato del lavoro, trovano lavoro per la maggior parte entro un anno dal giorno in cui si sono laureati. In alcuni dei nostri corsi addirittura si arriva all'85% degli iscritti. Chi è che viene da noi? Vengono studenti che hanno la speranza di potersi occupare in un lavoro appassionante. Perché appassionante? Perché le nostre professioni sono tutte professioni che mirano a far crescere le persone. Quindi, come dire, lavorano molto, sviluppano le capacità professionali, relazionali e sono relazioni che in genere danno grande soddisfazione a chi si impegna per far crescere altre persone. Noi formiamo persone che vanno a lavorare nella scuola, quindi vanno a fare gli insegnanti, vanno a fare, come dire, anche gli insegnanti della scuola, oltre che di base dei bambini, la scuola per l'infanzia. E recentemente abbiamo attivato un corso molto importante che opera anche nel campo dell'educazione sociale, ovvero sostanzialmente fornisce personale ai 40.000 circa organismi che in Toscana si curano dell'educazione sociale, degli interventi a supporto delle persone in stato di bisogno, che si va dalle famiglie con problemi, diciamo, di rischio, di povertà o quant'altro, fino ai disabili, fino agli anziani. Servizi di varia natura che comunque servono per realizzare condizioni di benessere tra la popolazione toscana.